Dodicesima lezione del mio corso della fisica facile e in questa lezione parleremo della legge della gravitazione universale. Rivedremo un attimo quali sono le quattro fosse universali, parleremo in particolare della legge gravitazionale, parleremo della forza peso, calcoleremo la G di un pianeta, vi farò vedere come si calcola la G, di la Terra ma anche di altri pianeti, poi vedremo come in base alla gravità di un pianeta è possibile anche calcolare la sua densità e poi vediamo le leggi di Keplero e ovviamente anche in questa lezione ci saranno esercitazioni per mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Cominciamo con le quattro forze della natura. Abbiamo già visto questa slide, vi ho detto che nei natura ci sono quattro forze, una è la gravitazione universale, quella che vediamo oggi, poi l'elettromagnetismo e poi la forza nucleare forte e la forza nucleare debole. Cominciamo. La legge di gravitazione universale. Due masse nello spazio si attraggono con una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Facciamo un esempio, immaginiamo la Terra e la Luna. Sia l'una che l'altra hanno una massa e quindi generano una forza attrattiva di gravità. La forza A1 con la sua massa e la forza 2 con la sua massa. Questa forza si manifesta con l'inverso del quadrato della distanza. Quindi quali sono i punti chiavi di questa legge? Intanto le masse dei corpi coinvolti, qui in questo caso della Terra e della Luna, e poi la distanza che le separa. Vedremo che poi entra in gioco anche un altro valore che è una costante, la costante di G. Vediamo bene questa legge. F, che è la forza di gravitazione universale espressa in Newton, perché è una forza, tutte le forze sono espresse in Newton. Poi abbiamo G, costante di gravitazione universale, che vale in tutto l'universo per tutti i corpi che interagiscono tra loro in modo predizionale, e vale 6,67 per 10 alla meno 11 N per metro quadrato fratto chilogrammo al quadrato. Poi abbiamo la distanza, che separa i due corpi, e questa legge è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. E infine abbiamo le due masse interagenti, ovvero le masse che praticamente subiscono tra loro la forza di attrazione gravitazionale. I primi esperimenti fatti in laboratorio hanno permesso di misurare, anche se in modo molto debole, con una bilancia di torsione, questa forza. Una bilancia di torsione è uno strumento di laboratorio per misurare le forze molto deboli. Un gioco di masse legate con sottili fili di quarzo capaci di torcersi in modo elastico. Faccio vedere l'immagine. Questa è una rappresentazione in 3D, che fa vedere come funziona questo meccanismo. Praticamente si mettono due masse in modo che possano muoversi tra loro, perché sono svincolate. Queste masse subiscono la trazione gravitazionale tra di esse, anche se molto molto debole, e questo strumento è talmente sensibile che permette a queste masse di avvicinarsi. Faccio vedere, qui c'è uno schema, abbiamo queste masse che sono legate con questo quarzo, che tiene sospese in aria, e queste sfere subiscono la forza attrattiva, perché sono di fatto delle masse. Si va a misurare l'angolo che si forma dalla torsione di questo cavo, e la forza si calcola tramite una costante per questo angolo. Quindi diciamo che questo è uno dei primissimi strumenti utilizzati in laboratorio per poter misurare effettivamente la gravità. E' ovvio che la gravità è una forza molto debole con masse così piccole, quindi questo strumento è tanto molto sensibile, ma sicuramente si misurano angoli molto molto piccoli, che vanno sicuramente misurati con un laser, però alla fine è pur sempre misurabile. Vediamo adesso un esercizio applicando la formula della gravitazione universale appena esaminata. Quindi abbiamo la forza per una costante G per le due masse fratto la loro distanza al quadrato. Vediamo il testo. Un sistema isolato è costituito da due soli corpi, chiamati A e B. Calcolare la forza attrattiva gravitazionale tra loro se le due masse hanno un valore rispettivamente di 25 kg il corpo A e di 78 kg il corpo B. E considerando che questi distano tra loro circa 27 cm. Allora, la massa del corpo A è 25 kg, la massa del corpo B è 78 kg e abbiamo che la loro distanza è di 27 cm, ovvero 0,27 metri. Vi ricordo che dobbiamo utilizzare i metri in questa formula. Quindi in questa formula le masse sono in kg, e qui va bene, mentre la distanza deve essere convertita in metri perché non possiamo utilizzare i centimetri in questa formula. Andiamo avanti, ricordiamoci che la costante G è uguale in tutto l'universo ed è di 6,67 per 10 alla meno 11 N per metro quadrato fratto di kg al quadrato. È per causa sua che dobbiamo utilizzare i kg per le masse e i metri per le distanze, proprio per fare in modo che questa costante possa essere compatibile con l'unità di misura di questi altri componenti della formula stessa. Andiamo avanti. Quindi la forza equivale a 6,67 per 10 alla meno 11 N per metro quadrato fratto kg al quadrato per 25 per 78 kg, tutto quanto fratto 0,27 al quadrato metri. Abbiamo convertito i 27 centimetri in metri ed elevato a quadrato. Quindi la forza risultante attrattiva è di circa 1,78 per 10 alla meno 6 N, quindi è una forza molto debole. Infatti ovviamente sono due oggetti piccoli, non sono pianeti, però anche se sono due oggetti molto piccoli, la forza attrattiva c'è ed è di questa entità. Ovviamente sarebbe, se volessimo scriverla in modo diverso, 0,0000178 N, quindi molto piccola. Parliamo adesso della forza peso. La trazione tra un corpo e il pianeta Terra viene definito come forza peso. Forza uguale a massa per accelerazione, l'abbiamo già visto nella lezione precedente. Quindi forza peso equivale a massa dell'oggetto che stiamo pesando per l'accelerazione di gravità del campo gravitazionale in cui ci troviamo, quindi del pianeta in cui ci troviamo. Nel caso della Terra, la gravità, cioè l'accelerazione di gravità terrestre, è di 9,81 metri al secondo quadrato. Cosa significa? Che se un oggetto viene lasciato libero di cadere sulla superficie terrestre, ogni secondo la sua velocità accelererà di 9,81 metri al secondo, finché non tocca Terra. Andiamo avanti. Vediamo quindi il peso di un oggetto sulla Terra equivale alla massa dell'oggetto per la gravità della Terra. Ricordiamoci sempre che in fisica massa e peso sono due cose completamente diverse. La massa è la quantità di materia presente in un corpo e si esprime in chilogrammi. Il peso, invece, è la forza che la gravità applica su quella massa. La massa si misura in chilogrammi e il peso, cioè la forza, si misura in newton. Troppo spesso nella vita comune noi confondiamo il peso con la massa e quindi in realtà quando parliamo di peso utilizziamo i chilogrammi, pensando che sono la stessa cosa della massa. Ma in fisica dobbiamo definire che massa e peso sono due cose diverse e questo concetto l'abbiamo già visto nelle prime lezioni di questo corso. Quindi, massa uguale a quantità di materia espressa in chilogrammi, peso, forza che la gravità applica su quella massa espressa in newton. La g è l'accelerazione di gravità della Terra, che abbiamo detto prima è 9,81 m al secondo quadrato e si esprime in m al secondo quadrato. Quindi facciamo questo esempio. Vediamo quanto può pesare una mela sulla Terra. Immaginiamo che la mela ha una massa di 22 grammi, quindi tutte le sue molecole messe insieme hanno una massa di 22 grammi. Sulla Terra il peso della mela equivale alla massa 0,022, come vedete sto esprimendo la massa in chilogrammi, perché i 22 sono i grammi della mela, quindi i 22 grammi sono 0,022 chilogrammi, per l'accelerazione di gravità 9,81 m al secondo quadrato e scopriamo che sulla Terra la mela pesa 220 grammi. Andiamo a fare lo stesso calcolo sulla Luna. Anche qui, ovviamente, come in tutto l'universo, la forza pesa equivale a massa per l'accelerazione, solamente che sulla Luna l'accelerazione di gravità è 1,62 m al secondo quadrato. Questo perché la Luna ha una massa minore della Terra e quindi genera un campo gravitazionale più debole. Anche qui, per trovare il peso di un oggetto, dobbiamo fare praticamente la massa dell'oggetto per la gravità in cui ci troviamo, e che in questo caso è 1,62 m al secondo quadrato. Allora, anche qui la massa è espressa in chilogrammi, il peso in Newton, la G ovviamente cambia, però è sempre espressa in m al secondo quadrato e quindi vediamo quanto pesa una mela che ha 22 grammi di massa. Abbiamo visto che sulla Terra pesa 220 grammi, vediamo sulla Luna quanto pesa, arriva a pesare 36 grammi. Quindi la stessa mela con la stessa massa sulla Terra pesa 220 grammi, sulla Luna invece pesa 36 grammi. Cos'è che cambia? Cambia non la massa della mela, ma la gravità in cui si trova. Quindi ovviamente la forza peso è una forza che dipende dalla massa dell'oggetto e dal campo gravitazionale in cui questo oggetto si trova. Andiamo avanti. Vediamo adesso com'è possibile conoscere l'accelerazione di gravità di un pianeta. Quindi è possibile conoscere l'accelerazione di gravità di un pianeta sia in superficie ma anche a diverse altezze dalla superficie semplicemente conoscendo la sua massa e il suo raggio o comunque la distanza dal centro del pianeta. Vediamo un po'. Abbiamo visto che la forza equivale ad m per g, ma la stessa forza equivale anche a g per le due masse fratto r al quadrato. Quindi sapendo che queste due forze, quella che misuriamo come forza peso in superficie e quella generata dal corpo siano la stessa forza, possa ugualiare queste formule. m per g equivale a g per le due masse fratto r al quadrato. Allora, se sto misurando la forza di una massa che subisce in superficie, questa massa e questa massa appartengono allo stesso oggetto, perché sono la massa dell'oggetto attratto dal pianeta e quindi posso praticamente semplificarle. Cosa mi rimane? Che praticamente la g, ovvero l'accelerazione di gravità del pianeta, dipende unicamente dalla massa del pianeta fratto la distanza da cui mi trovo, cioè dal suo baricentro, che può essere il raggio del pianeta se voglio conoscere la g in superficie o una qualsiasi altezza se aumento questa distanza, e poi g, la costante universale. Quindi g equivale a costante universale, 6,67 per 10 almeno 11, per la massa del pianeta fratto la distanza al quadrato dal centro del pianeta. Ovviamente, come detto prima, se voglio conoscere la gravità in superficie come sulla Terra, basta che metto il raggio della Terra. Se invece voglio sapere la distanza a un'altezza qualsiasi, basta che metto a posto di R la distanza tra praticamente il centro del pianeta. Facciamo quest'altro esercizio. Immaginiamo un pianeta di cui non conosciamo la massa. Quindi, calcolare la massa di un pianeta di diametro 10.000 km, quindi conosciamo il diametro del pianeta, sapendo che a una distanza di 50.000 km dalla sua superficie, la g, cioè la sua accelerazione di gravità a quella distanza, è di 0,13 m al secondo quadrato. Quindi, applicando la formula vista precedentemente, sappiamo che g equivale a costante di gravitazione universale, è 6,67 per 10.000 km per la massa fratto il raggio al quadrato. A questa distanza dalla superficie, la g è di 0,13 m al secondo quadrato. Quindi, come vedete, io qui, per conoscere la gravità di un pianeta, mi basta conoscere la massa che ha e la distanza da cui la sto misurando. Se voglio conoscere la gravità sulla superficie, basta che metto il raggio del pianeta, che in questo caso sarebbe 5.000 km. Però, se voglio conoscere la sua gravità a una distanza dalla superficie, al raggio devo aggiungere poi la distanza che mi è stata chiesta. Quindi, qui, ai 50.000 km, ci aggiungerò i 5.000 km del raggio. Andiamo avanti. Vediamo come si risolve questo esercizio. Allora, abbiamo detto che dobbiamo aggiungere alla distanza dalla superficie la distanza dal centro del pianeta. Quindi, faccio 50.000 km più 5.000 del raggio. Cosa significa? Che questa gravità di 0,13 metri al secondo al quadrato è la gravità che il pianeta genera dalla distanza di 55.000 km dal centro del pianeta stesso. Perché io ho dal centro del pianeta che devo, praticamente, calcolare tutto questo. Perché dal centro del pianeta? Perché, se vi ricordate le prime lezioni, dobbiamo considerare gli oggetti come se avessero tutta la loro massa concentrata nel loro stesso baricentro. Nel caso di un pianeta, il baricentro è il suo centro. Quindi, di fatto, quando io vado a calcolare la gravità di un pianeta o comunque sia la sua influenza gravitazionale, devo considerare tutta la sua massa concentrata in un punto, principalmente nel suo baricentro. Quindi, ricordandoci l'equazione G uguale a costante di gravitazione universale dell'universo per M fratto R al quadrato, io conosco G, conosco R, devo trovare M. Faccio la formula inversa e trovo che M equivale a G per R al quadrato fratto costante universale. Vado a sostituire questi valori e ottengo M uguale a 0,13 m al secondo quadrato per 55 milioni di metri al quadrato. Vi ricordo che in questa formula le distanze vanno messe in metri, quindi 55 mila chilometri diventano 55 milioni di metri elevato al quadrato. Tutto quanto fratto la costante universale dell'universo che è 6,67 per 10 al meno 11 N per M ad 4 fatto chilogrammo al quadrato. Vado a calcolare e trovo che la massa del pianeta è di circa 5,90 per 10 alla 24 kg. Ora, possiamo calcolare la gravità del pianeta sulla sua superficie. Quindi, ora che conosciamo la massa del pianeta e del suo raggio, possiamo conoscere la gravità sulla sua superficie e calcolare il peso che avrebbe un astronauta di massa 15 kg. Quindi, la gravità sul pianeta equivale sempre alla stessa formula costante universale gravitazionale per la massa fratto R al quadrato. Questa volta, stando sulla superficie, visto che il pianeta ha un diametro di 10.000 km, dobbiamo mettere a posto di R il raggio del pianeta che è di 5.000 km, quindi G uguale a 6,67 per 10 al meno 11 N per M quadro fratto chilogrammo al quadro ed è praticamente G che moltiplica 5,90 per 10 alla 24 fratto R al quadrato che sono 5 milioni di metri. vi ricordo che la distanza era sempre messa in metri al quadrato. Vado a calcolare e mi viene che sul pianeta la G è di 15,73 m al secondo quadrato. Ora, confrontato con la Terra, sulla Terra la G è di 9,81 m al secondo quadrato, cosa posso dire? Che questo pianeta, avendo un diametro più piccolo della Terra, perché la Terra ha un diametro di 6.371 km, l'unico modo che ha per avere una gravità così forte è avere una densità molto elevata. Quindi, vediamo quanto pesa l'astronauta su questo pianeta. Vi ricordo la formula per trovare il peso, che è massa per accelerazione. Allora, l'astronauta equivale a 15 kg che ha la sua massa per 15,73 m al secondo quadrato, che è l'accelerazione di G sulla superficie di questo pianeta. E su questo pianeta il peso dell'astronauta sarà di 235,95 N. Facciamo un esempio. Guardiamo nel nostro sistema solare. Marte è grande la metà della Terra, ovvero il raggio di Marte più o meno è la metà di quello terrestre. Però, su Marte, la gravità non è la metà di quella della Terra, ma la gravità è meno della metà, circa il 37%. Questo perché la Terra, nonostante sia il doppio più grande, è ben nove volte più pesante. Qual è l'unica soluzione affinché la Terra sia così compatta ma così tanto più pesante? Perché è più densa. Se io vado al confronto con i dati di Marte e della Terra, vediamo che la gravità sul pianeta Terra è di 9,81 m al secondo quadrato sulla superficie e il suo raggio è di 6.371 km perché la Terra ha un diametro di poco meno di 13.000 km, sono circa 12.700 km. Mentre Marte ha un raggio di 3.403 km e una gravità sulla superficie di 3,96 m al secondo quadrato. Come vedete, non c'è una diretta proporzionalità tra dimensioni e gravità. Cos'è che cambia? Cambia la densità. La Terra è molto più densa. Un centimetro cubo di Terra pesa 5,51 g mentre un centimetro cubo di Marte pesa 3,95 g. Questa ovviamente è una media perché poi ovviamente il nucleo della Terra che è fatto di ferro è molto più denso della crosta. Quindi se io vado a fare la media di tutto il pianeta, mediamente la Terra ha una densità di 5,51 g per centimetro cubo. Però ovviamente la densità aumenta man mano che si va in profondità. Stessa cosa per Marte però di conseguenza anche facendo la media comunque sia Marte è più leggero della Terra perché è meno denso. Sicuramente perché ha un nucleo di ferro molto più piccolo. Calcolate che solamente il nucleo di ferro della Terra è grande quanto Marte quindi di fatto solamente il nucleo della Terra pesa più di Marte. Quindi vedete che a volte un pianeta può avere una densità molto forte e quindi avere una grande gravità anche se le dimensioni possono tradire questa cosa. Però noi possiamo anche calcolare la densità di un pianeta conoscendo la gravità sulla sua superficie e il suo raggio. Quindi ora che conosciamo la massa ed il raggio di questo pianeta possiamo calcolarne la sua densità. Ricordiamoci qual è la formula per calcolare il volume di una sfera perché ovviamente consideriamo il pianeta come una sfera. Intanto ricordiamoci che il raggio è di 5.000 km e che la sua massa è di 5,90 x 10 x 24 kg. Ricordiamoci allora la formula del volume che è di 4 terzi pi greco per r al cubo e vado a sostituire i valori. Adesso lo vado a calcolare. Ho trovato il volume in centimetri cubi perché la densità si misura in grammi fratto centimetri cubi. Ovviamente per fare ciò mi è bastato mettere il raggio in centimetri e quindi per fare questo basta fare 5.000 km per 1.000 che sono i metri quindi vengono 5.000 metri per 100 che sono i centimetri per ogni metro. Quindi alla fine qui ho messo 500 milioni di centimetri. Ovviamente andando a fare questo calcolo mi viene che il volume è di 5,23 x 10 alla 26 cm3. Ora cosa faccio? Ovviamente devo convertire questi in grammi perché la densità viene colcolata in grammi fratto centri di cubo e ora ricordiamoci che la formula di densità è massa fratto volume e quindi densità equivale a 5,90 x 10 alla 27 grammi. Perché? perché questi vanno convertiti in grammi vi ricordo che la densità la voglio in grammi fratto centimetri cubo quindi 5,90 x 10 alla 24 kg sposto la vigola di 3 valori perché devo fare tutto quanto per 1000 e viene 5,90 x 10 alla 27 grammi fratto 5,23 x 10 alla 26 cm3 quindi la densità equivale a 11,28 grammi fratto centimetro cubo come vedete la densità di questo pianeta è molto più alta di quella della Terra che dalla strada precedente risultava poco più di 5 grammi a centimetro cubo quindi è un pianeta molto denso probabilmente ha un nucleo di ferro molto grande se andiamo a guardare gli altri pianeti del sistema solare vediamo che hanno una densità molto diversa tra loro in primis qui possiamo vedere che i 4 pianeti rocciosi proprio perché fatti di roccia e metalli hanno una densità più elevata qui per esempio i primi 3 pianeti hanno una densità più o meno simile Marte è quello più leggero quello meno denso se consideriamo 1 la densità dell'acqua vedete che la Terra è 5 volte e mezza più densa dell'acqua mentre Marte ha malapena 4 volte più densa di quella dell'acqua ovviamente Marte è più leggero una cosa interessante da vedere per esempio sono i giganti gassosi appunto essendo fatti di gas praticamente sono molto meno densi rispetto ai pianeti rocciosi qui addirittura spicca Saturno che ha una densità minore di quella dell'acqua cioè se ci fosse un oceano molto grande Saturno galleggerebbe nonostante il suo diametro sia 10 volte quello terrestre praticamente però è talmente poco denso che galleggerebbe sull'acqua mentre se guardate Mercurio qui c'è una sezione il suo nucleo è enorme rispetto al pianeta qui se vedete Mercurio si vede che la crosta e il mantello sono molto sottili probabilmente Mercurio è sopravvissuto a un mega impatto che ha fatto saltare nello spazio gran parte del mantello e della crosta qui abbiamo un oggetto che è di appena 1000 km più largo della luna però ha una gravità molto più elevata per esempio la luna è larga 3500 km e ha una gravità che è un sesto di quella terrestre invece come vedete Mercurio è largo 4800 km quindi poco più largo della luna però la sua gravità è un terzo di quella terrestre quindi essendo molto più denso in un volume poco più grande contiene molta più massa e quindi sulla sua superficie la gravità è molto più forte un altro pianeta simile alla Terra per densità e gravità è Venere come vedete Venere ha l'82% della massa della Terra quindi la massa di Venere ha l'80% di quella terrestre però ha una densità che è leggermente inferiore e quindi in superficie dovrebbe avere una gravità più o meno simile a quella terrestre detto questo vorrei cambiare argomento e parlare delle leggi di Keplero Keplero fu uno scienziato che scoprì il comportamento dei pianeti intorno al Sole e fondò queste tre leggi la prima legge dice che tutti i pianeti lo orbitano intorno a orbite ellittiche quindi tutte le orbite sono ellittiche vi ricordo che una ellisse è con la figura geometrica in cui ci sono due fuochi e la somma delle distanze tra questi due fuochi e ogni singolo punto sull'ellisse non varia mai la seconda legge di Keplero dice che un pianeta percorre la sua orbita tracciando aria uguali in tempi uguali che cosa significa? il pianeta accelera quando si avvicina al Sole e rallenta quando si allontana visto che la gravità del Sole aumenta con la sua vicinanza quando il pianeta si avvicina alla stella ovviamente accelera per non cadere sul Sole quando invece si allontana invece rallenta perché a quella distanza la gravità del Sole è più debole quindi il pianeta rimane in orbita con una gravità minore qui abbiamo un'altra immagine che rappresenta vediamo sempre l'orbita ellittica qui vedete che questo tratto di orbita più vicino alla stella identifica un'area l'area 1 quest'area 1 equivale all'area 2 però come vedete il tratto di orbita è minore cosa dice questa legge? che il tempo impiegato per andare dal punto 1 al punto 2 è lo stesso tempo impiegato per andare dal punto 3 al punto 4 che vuol dire che qui il pianeta ha accelerato perché il tratto di orbita è maggiore e qui invece ha rallentato perché il tratto di orbita è minore perché quando si allontana la gravità del Sole è minore e quindi il pianeta rallenta cos'è che unisce queste due tratti di orbita oltre al tempo di percorrenza? l'area che identificano l'area identificata dal tratto di orbita dal punto 1 al punto 2 è uguale all'area identificata dal tratto di orbita che va dal punto 3 al punto 4 il tempo impiegato dal pianeta per percorrere le due tratti di orbita punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 è identico quindi di fatto la legge dice questo un pianeta percorre la sua orbita tracciando aree uguali in tempi uguali questo perché come detto prima visto che l'orbita è ellittica e il Sole occupa uno dei suoi fuochi quando il pianeta si avvicina al Sole la gravità ometta e il pianeta accelera quando invece il pianeta si allontana dal Sole la gravità del Sole diminuisce e il pianeta rallenta e si comporta così sempre accelera e rallenta accelera e rallenta e così via vediamo adesso la terza legge di Keplero la quale dice che il quadrato del tempo necessario a percorrere l'intera orbita dal Sole periodo di rivoluzione è proporzionale al cubo della sua distanza media dal Sole stesso che cosa significa? che come detto prima visto che la gravità del Sole diminuisce con la distanza i pianeti che orbitano vicino al Sole devono orbitare più veloci per rimanere in orbita mentre i pianeti che orbitano più lontano proprio perché la gravità è più bassa possono permettersi di orbitare più lentamente e non devono correre come quelli più vicini per rimanere in orbita se andiamo a vedere il comportamento dei pianeti vediamo che consideriamo 1 il periodo di rotazione della Terra ecco guardate che Mercurio ci mette il 24% del tempo Venere ci mette il 61% del tempo Marte ci mette quasi 2 volte del tempo cioè il 188% Giove ci mette 11 anni a fare un giro intorno al Sole Saturno ci mette 29 anni e mezzo a fare un giro intorno al Sole Urano 84 anni Nettuno 165 anni e Plutone 248 anni vedete che man mano che aumentano i periodi di rivoluzione aumenta anche la distanza dal Sole i pianeti più lontani ovviano più lentamente i pianeti più vicini ovviano più velocemente vediamo come possiamo applicare questa terza legge di Keplero a livello matematico la formula che la esprime è questa periodo di rivoluzione al quadrato equivale a una costante per la distanza dell'oggetto al cubo vi ricordo che questa costante K non è una costante uguale per tutti i corpi dell'universo ma dipende dal corpo celeste attorno al quale avviene la rivoluzione un oggetto in orbita intorno a un altro oggetto ha un'accelerazione centripeta che è un vettore rivolto verso l'oggetto attorno a quale orbita e che ha ovviamente una sua forza di reazione uguale e contraria consideriamo intanto la K K uguale a 4π al quadrato fratto g per m questa massa questa m è la massa del corpo attorno al quale avviene la rivoluzione e quindi per calcolare la K di un determinato corpo celeste dobbiamo usare la sua massa nella formula quindi per calcolare il periodo di dotazione della Luna intorno alla Terra di un qualsiasi satellite deve utilizzare una K calcolata con la massa della Terra se invece devo calcolare il movimento di un satellite artificiale o di un asteroide o di un pianeta attorno al Sole devo utilizzare una K che è stata ottenuta utilizzando la massa del Sole in questa formula quindi la K è diversa per ogni corpo attorno al quale sto studiando il moto facciamo questo esercizio determinare la massa della Terra sapendo che la Luna impiega 27,3 giorni per compiere un'orbita attorno ad essa e sapendo che il raggio dell'orbita lunare è pari a 3,85 per 10 alla 5 chilometri quindi vedete qui abbiamo la Terra con la Luna che gira intorno è possibile conoscere la massa del pianeta studiando il comportamento del satellite che gli ruota intorno vediamo come si fa ricordiamoci il periodo della Luna intorno alla Terra di 27,4 giorni il tempo espresso in secondi perché poi nella formula il tempo viene espresso in secondi equivale a 2,37 per 10 alla sesta secondi come ho fatto? ho fatto 27,3 giorni per 24 ore per 60 minuti per 60 secondi e mi viene questo numero enorme espresso con la potenza di 10 alla sesta il raggio ovvero la distanza tra la Terra e la Luna è di 3,85 per 10 alla quinta chilometri sono 385 mila chilometri e ovviamente lo devo esprimere in metri perché nella formula vuole a distanza in metri 3,85 per 10 all'ottava metri ho moltiplicato questo valore per 1000 perché in ogni chilometro ci sono 1000 metri ancora la mia domanda è trovare la massa della Terra la costante universale G 6,67 per 10 almeno 11 questa forza come visto prima è uguale e contraria all'accelerazione centripetra della Luna che è anche la forza che mantiene la Luna in orbita che equivale vista dalla sede precedente la massa dell'oggetto in orbita cioè in questo caso la Luna per la velocità al quadrato fratto R se F è uguale ad F posso praticamente eguagliare queste formule vedete questa è la forza centripetra che è uguale e contraria alla forza di cavità della Terra per mantenere gli oggetti in equilibrio in orbita quindi le masse dell'Une si semplificano semplificano anche qui i raggi qui ne levo 1 e qui levo il quadrato e mi rimane questa formula da cui posso ricavare la massa della Terra facendo la formula inversa la massa della Terra equivale a V al quadrato fratto la costante universale G per R sapendo dalla lezione del modo circolo uniforme che la velocità di un oggetto circolare equivale a 2π per R posso andare a se studiare questo qua dentro e mi viene che la massa della Terra equivale a 2π per R al quadrato per R fratto G vado a sviluppare questa equazione e mi esce fuori che la massa della Terra è di 6 per 10 alla 24 kg quindi vedete che basta conoscere la massa del satellite e il suo tempo di rivoluzione e si può conoscere la massa dell'oggetto attorno al quale ruota questo è molto importante in astronomia perché grazie a questo meccanismo che sono stati scoperti gli esopianeti infatti è possibile calcolare la massa e l'orbita di un esso pianeta semplicemente vedendo come si comporta la stella attorno alla quale orbita qui immaginiamo una stella che oscilla e infatti misurando l'oscillazione della stella madre visibile grazie alla sua forte luminosità è possibile calcolare la massa e le dimensioni dell'orbita del pianeta che gli obita attorno e che dalla Terra è praticamente invisibile da vedere perché è troppo poco luminoso con questo meccanismo hanno scoperto anche i buchi neri specialmente quello a centro della galassia infatti il buco nero è un oggetto che non emette luce e non si può vedere ma si possono vedere i moti delle stelle che gli obita intorno qui vediamo una ricostruzione dei moti delle stelle che obita intorno a un oggetto che qui è invisibile cioè qui c'è un oggetto molto pesante che non si vede perché non emette luce però è possibile calcolare la sua massa dalla velocità e dalle orbite delle stelle che invece riusciamo a vedere utilizzando la formula vista prima quindi conoscendo la massa e il tempo di orbita di queste stelle è possibile calcolare la massa dell'oggetto attorno al quale è orbita anche se è invisibile qui vediamo uno zoom e si vede il movimento delle stelle intorno a un oggetto che noi non vediamo che sarà sicuramente il buco nero qui vediamo uno zoom di questa zona si vede proprio il comportamento di queste stelle che opera intorno a un oggetto invisibile da noi perché non emette luce però è possibile calcolare la sua massa e la massa del buco nero centrale intorno ai lati è stimata in milioni di volte quella del nostro sole proprio utilizzando le formule dell'esercizio fatto recentemente e ovviamente questo buco nero si trova nel centro della nostra via lattea proprio qui si chiama Sagittarius A questa invece è la foto reale di un buco nero che è stata scattata l'anno scorso tra gli scienziati non è il buco nero al centro della nostra galassia ma è il buco nero al centro di un'altra galassia molto lontana dalla nostra e questo buco nero è anche molto più massiccio del nostro però questa è la prima foto effettiva di un buco nero ma sono già decenni che noi conosciamo l'esistenza dei buco neri perché non li vediamo fisicamente come questa fotografia ma possiamo percepirli perché vediamo gli oggetti che gli obbiettano intorno e possiamo calcolare le loro masse perché grazie alla formula vista nell'esercizio precedente è possibile risalire alla massa dell'oggetto cioè del buco nero studiando il movimento di quello che gli obbiettano intorno qui c'è una ricostruzione artistica di come dovrebbe essere il buco nero al centro della nostra galassia con questo disco di accrescimento di materiali che gli obbiettano intorno e quello che sta succedendo adesso è che c'è una massa di gas che si è avvicinata un po' troppo e che in questi anni è possibile vedere mentre cade dentro il buco nero questo ovviamente è una ricostruzione artistica però è quello che vedremmo se fossimo lì nel momento in cui questa nube di gas che si diceva troppo viene catturata dal buco nero centrale qui piccolo e nero nella prossima lezione che sarà presente la seconda parte dedicata alla forza gravitazionale mi occuperò della caduta di gravi e dei moti orbitali quindi studieremo il comportamento di un moto parabolico di un proiettile e di un oggetto in orbita intorno alla terra potete trovare questa lezione ed altre lezioni sul mio canale youtube e sulla mia pagina facebook prof. Antonio Lo Iacono grazie grazie